È un fiore all'occhiello della cultura dell'Isola Dischia, il laboratorio teatrale del liceo, condotto dal regista Salvatore Ronga. Quest'anno che cosa stiamo preparando al liceo? Il lavoro di quest'anno focalizza l'attenzione sulla figura di Medea, quindi metteremo in scena un adattamento della Medea di Euripide, una Medea molto particolare perché lavoriamo sul personaggio e lavoriamo sul mito, soprattutto cercando di far emergere dalla tragedia di Euripide le tracce del mito precedente, cioè di Medea come figura positiva. Sappiamo che prima di Euripide Medea non era un assassino, nel senso che non aveva ucciso i propri figli, anzi erano i Corinzi che avevano ospitato Medea ad uccidere i suoi figli, per di più compiendo anche un atto sacrilego perché erano stati uccisi all'interno del Tempio di Era. Euripide decide invece di fare di Medea un assassino e quindi crea il mostro, ma crea anche una figura potentissima, leggendaria, potentissima. E quindi il lavoro è quello di lavorare facendo delle omissioni, facendo vincere il gioco teatrale e drammaturgico sul testo e quindi di cercare di così suggestionare lo spettatore per convincerlo che forse Medea non è un'infanticida, ecco come si potrebbe pensare. Quando andrà in scena lo spettacolo? Lo spettacolo andrà in scena venerdì 11 maggio alle ore 21. E questi ragazzi come si stanno comportando? Abbiamo lavorato tantissimo, un bellissimo gruppo, peraltro abbiamo anche delle sorprese, nel senso che ad esempio il ruolo di Medea viene ricoperto da un uomo, che è Pietro De Simio, che è qui a fianco a me. Poi vabbè, lo spettacolo è molto particolare perché è anche molto visionario. È un bel gruppo, abbiamo lavorato tantissimo, ci siamo trovati, devo dire, molto bene. Abbiamo costruito insieme anche questo piano di regia e naturalmente ringraziamo il liceo, ringraziamo il preside, la nostra tutora, Anna Maria Costino. È un laboratorio con una lunghissima tradizione. C'è una continuità di progetto, molto probabilmente è per questo, perché molti di loro fanno parte del gruppo che l'anno scorso ha partecipato al Don Giovanni e che ha vinto il Festival Nazionale del Teatro Scolastico a Cesena.